Musica Faccio accomodare la modella alla costazione ed eseguo un analisi della CURS per rificare quale shampoo utilizzare. Incomodare la modella alla testa e li stendo sulle spalle in asciugamano. Colgo la chioma e la inserisco all'interno della vaschetta per eseguire la detersione. Preparo lo shampoo diluindolo in una vaschetta con dell'acqua tiepida. Discelo l'acqua alla temperatura adeguata sentendola prima sul polso, quindi con una mano tengo il rubinetto e con l'altra muovo e alzo la chioma per far penetrare bene l'acqua. Distribuisco lo shampoo in varie regioni della cute. Eseguo un massaggio cutaneo con movimenti circolari coinvolgendo tutte le parti da detergere, zona frontale, temporale, parietale e occipitale. Sciacquo abbondantemente per evitare desideri di shampoo e ripeto operazioni di detersione. Con il secondo shampoo concludo con un impacco ristrutturante per aver una chioma morbida e lucida. Preparo un asciugamano con dell'acqua molto calda e l'avvolgo all'intorno della chioma per far sì che la maschera penetri molto velocemente. lascio in posa qualche minuto e poi lo risciacquo. eseguo foratamente un ultimo risciacquo e avvolgo un asciugamano intorno alla testa assorbante e faccio accomodare la modella alla postazione. adesso tutto pronto per la piega. grazie. grazie. grazie a tutti. grazie a tutti.